Ah, porca puttana, ho visto la luce Dai, siete in diretta, porca puttana Siamo in diretta, ciao ragazzi Noi siamo le persone Lei si sta spogliando Ci faccia vedere Come dice, aspetta, come dice l'aria Fate vedere le tette Esatto, esatto Adesso che ho la vostra potutissima attenzione Sono qui, siamo qui per dirvi Che noi stasera stiamo andando al post apocalisse E questo è il video pre-serata Che poi verrà Integrato Integrato al video dopo serata Per far vedere la differenza Di quello che succederà a noi persone Dopo la serata Normalmente non succede niente Perché siamo scopite prima e siamo scopite anche dopo Sì, ma siamo sicuramente più sfatte, brutte e schifose Quello sicuro Beh, però l'hanno già visto sfatte, brutte e schifose I video li fate sempre dopo Perché a noi non ce ne frega un caso Quale sarà la novità vera, nuova Questa serata è dedicata interamente All'accalappiare persone Ecco perché ci siamo messi il trucco Le tette fuori Ci siamo messe le tette Ci siamo messe le tette stasera Ecco adesso qui abbiamo un nostro collaboratore Buonasera Anche lei Buonasera Con noi, vero? Ma certo E quindi lei ci aiuterà ad accalappiare adepti questa sera Esatto Sicuro Lei si è messa anche le scarpe col tacco Mi sono messa le scarpe col tacco Perché siccome io sono nanetta Almeno stasera No, più che altro perché se uno non si usce al canale Lo prendi a paccare Attaccate, mi sembra giusto Se vuole inquadrare le mie scarpe col tacco Sono queste Bene Fanno anche abbastanza male Bene Va bene ragazzi Un saluto Una cosa importante I nostri gadget Esatto Io ne ho portati un po' Perché li devo distribuire Non li vedrò mai con questa luce Fingere di vederli Perché giuro che ci sono Dobbiamo partire subito Perché noi abbiamo la lista Post apocalisse Personi Più dieci Non è uno scherzo, è vero Andiamo Quindi dobbiamo andare altrimenti